Salve a tutti i ragazzi, sono Inzio96mcp e benvenuti in questo primo review Allora, oggi revieweremo, recensirei, recensirei, un gioco chiamato AA Dunque, il nome fa abbastanza cagare, non ho ancora capito perché si chiama AA L'ho sviluppato perché non aveva molta fantasia da quel punto di vista L'obiettivo del gioco principale è mettere queste palline nella palla al centro Insomma, dovete mettervi gli aghi nel pagliaio Dovete mettere queste palline nella palla al centro All'inizio sarà molto molto semplice perché avete poche palline Quello andrà molto molto piano E... sì, io sono deficiente quindi, vabbè La pubblicità, a parte quella sotto che è permanente e non si muove di lì Quella su schermo, che avete visto forse prima Esce ogni tanto soltanto Raramente esce quella a schermo Quella sotto invece dà abbastanza fastidio Scaricate Good Game Empire E più andate avanti e più livelli saranno difficili L'unica cosa è che arrivati a un certo livello Inizierà a essere impossibile Arrivati a un certo livello intendo livelli altissimi Tipo 50, 60 E a un certo punto anche inizieranno i livelli a ripetersi Sempre allo stesso modo Ora, questo qua è più veloce rispetto a quella È simile ma non è uguale È leggermente... leggermente... un bel po' più veloce E girare sta palla di merda qua E va a fangur Sì, questo gioco fa abbastanza cagare Non mi chiedete perché lo sto recens... Bene Naturalmente si possono anche fare i soliti acquisti in app del cazzo Di gameplay Dopo un po' diventa difficile, impossibile e ripetitivo Come ho detto sono quei giochi che stanno al primo posto sulla classifica Mi è scivolata una cuffia la loro Stanno al primo posto sulla classifica per un po' di tempo E poi nessuno più si dedica Ce l'ho fatta! Gli darei un punteggio di... Sei... Una sufficienza È proprio un gioco da giocare Proprio quando non si ha un cazzo da fare Niente da fare Oppure quando non avete niente da fare Io lo desisto all'Europa e chi mi fa cagare Vediamo un 6 a questo gioco Ce ne saranno altre review Questa è stata la prima Non so come chiamare la serie Tra virgolette serie Però... Sì, da InSerie è tutto Io vi saluto Ciao a tutti Ciao a tutti